Buongiorno a tutti, allora in attesa che questa sera si concludano le altre tre giornate dei campionati europei perché manca ancora la partita del campionato spagnolo, oh Susanna non piangere perché, che direi giocare con l'Alaves, il campionato italiano che c'è Intergenova e il campionato inglese che c'è Sheffield contro Arsenal, possiamo andare a vedere come sono andate invece le gare per il campionato francese e il campionato tedesco, campionato francese che vede una squadra sempre più in crisi, che temo, farà la stessa fine dell'Orient l'anno scorso perché oramai è una caduta libera continua, è proprio, stiamo aspettando il botto, mi spiazzi come direbbe il buon Simoncino Izaghi, ma andiamo a vedere come è andata, la giornata è iniziata molto male, molto male perché venerdì sera Monaco e Paris Saint Germain hanno fatto 0 a 0 e quindi il Paris Saint Germain per la prima volta forse in questo campionato ha disatteso quella normalità che ormai è consolidata di prendere gol e farne, nelle sue gare finiscono sempre in gol, stavolta no gol, ma non solo no gol della squadra che ha affrontato e quindi non è riuscita a fare gol, ma anche loro non hanno segnato, quindi già qua capisci che la giornata è abbastanza anomala. Proseguendo nella giornata, il sabato, il Lille è andato a vincere solo 1 a 0 in casa del Reims. Poi finalmente sono arrivate due partite con qualche gol, una la mega vittoria per 5 a 1 dell'Olympic Marsiglia in casa del derelitto Clermont ormai rassegnato alla retrocessione, 5 a 1 addirittura e poi la sorpresa, sorpresa fino a un certo punto perché questo Toulouse in casa l'è una brutta bestia. In Coppa ha battuto il Liverpool 3 a 2 e si tolta all'usfizio anche di battere il Milan in una gara che contava poco perché avrebbe dovuto vincere almeno 5 a 2 per portare la squadra rossonera degli scappati di casa ai supplementari, cosa che non gli è riuscita, però almeno la soddisfazione di batterli 3 a 2 come ha battuto il Liverpool in modo che così anche gli scappati di casa potrebbero dire che loro sono uguali al Liverpool visto che hanno perso con lo stesso risultato in casa del Toulouse. Vedremo se arriveranno in finale con il Liverpool come spero, se ce la faranno o no. Brest, Le Havre, 1 a 0. E proseguiamo, proseguiamo con... o fanno... o sennò... tristezza, guarda, la tristezza totale quando vedo questi risultati mi viene la tristezza. Poi c'è l'apoteosi ragazzi, l'apoteosi della pazzia del calcio. Il Nant che stava facendo bene il campionato, si era allontanato dalla zona pericolo, affronta una diretta concorrente che gli era alle spalle di un po' di punti, gioca in casa, può chiudere il discorso e invece cosa fa? Perde. Perde anche nettamente, 2 a 0. Nant, Mets, 2 a 0 e si riapre la lotta a salvezza. Si riapre la lotta a salvezza e il Nant è nuovamente nella cacca. Poi vedremo la classifica. Montpellier e Strasburgo fanno una di quelle partite che a me piacciono tanto. Eh sì, eh. 2 a 2 hanno il risultato che a me fa doppia libidi di quei fiocchi. Soprattutto quando non è la mia squadra a fare questo risultato, ma un'altra squadra. Che tu magari devi vedere questa partita o stai vedendo questa partita e te la godi. 4 gol in una partita godi, si gode. Perché è una partita senza gol, senza tanti gol, senza esagerare perché sennò diventa una partita di pallavolo. È come un piatto di pasta senza sugo, non sa di niente. Eh. Va bene per i vecchietti che stanno lì con tutto 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 cercare di mangiare il minestrino. Gli 0 a 0 sono così. E c'è 2 a 2, 4 a 1, 5 a 1, 3 a 2, con alti e bassi. Soprattutto quando tu sei lì che te la guardi senza nessun interesse. Problema diverso quando finiscono 3 a 2, 2 a 2 eccetera, è quando tu sei tifoso di una delle due squadre e rischi la vita, come direbbe Abba Tantuono. Ma proseguiamo perché le sorprese non sono. È stato il risveglio dei morti viventi, delle squadre che sono lì che pensano eh, sto lottando per la salvezza e tac, ti tirano fuori la partita. Perché Lorien si ricorda che l'anno scorso ha fatto un campionato da libidine per mezza giornata, per metà andata, della prima parte, chiamatela come volete, poi dopo è crollato. quest'anno stanno facendo l'opposto. Hanno fatto un campionato pessimo fino adesso, adesso si sono resi conto, perché hanno l'acqua alla gola, che è ora di risvegliarsi e hanno fatto il risveglio. Sono andati in casa delle Renne e hanno vinto 2 a 1. L'Oriente è andato a vincere in casa del Ren 2 a 1 e la Ren non ha neanche la scusata che ne so, sono rimasti in 10 alla mezzona, 11 contro 11 e l'Oriente ha vinto 2 a 1. Chi invece ha fatto valere la legge del più forte è stato Lens, che si è pappato a Olione, che però, 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 popoppero, 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 non ha neanche la scusata che è rimasta in 10, perché ormai la partita era già sul 2 a 0 per il Lens. All'84esimo sono rimasti in 10 e poi è arrivato anche il terzo gol, ma non è che puoi dire, eh no, siamo rimasti in 10 e loro ci hanno fatto due gol, ma li avevamo già fatti. In 11 contro 11 il Lens ha dimostrato di esservi superiore. Silenzio a casa. E quindi a Olione sta lì ancora di nuovo nella zona ibrida. Detto questo, ragazzoni, andiamo a vedere un po' la classifica o meraviglia o del campionato di Liguain, che vede sempre il Paris Saint Germain comandare alla grande, nonostante il pareggio col Monaco. 55 punti per il Paris Saint Germain, 46 punti per il Brest che mantiene la seconda posizione. 42 punti per il Monaco che per ora è terzo e andrà a fare i preliminari di Champions League, forse, forse, perché io vedo tutto azzurro. Vediamo se tutte e tre le squadre... Eh sì, l'anno prossimo le francesi vanno tutte e tre, non c'è preliminare, tutte e tre direttamente in Champions, non devono fare il preliminare. E quindi anche arrivare terzi, ribidire, perché la leggenda, la leggenda, la spiega Xiao dei Colorado, mi dice che l'Azzurro va a fase a Gironi di Champions, l'Arancione va ai preliminari della Champions League, il che vuol dire che sono ben quattro le squadre che andranno in Champions League delle francesi, solo che la quarta andrà a fare i preliminari, l'anno scorso era la terza, con il fatto che c'è la squadra in più. L'Ibidide. E il Lizza che è quinto in questo momento, non riesco, scusate, devo leggermente... Fase a Gironi dell'Europa League. Poi naturalmente la terza ultima, fai play-off, retrocessione, non c'è gioca con la terza della... nella serie della League 2, e quindi passeggiatina di salute, le ultime due vanno in League 2. Comunque ragazzoli, proseguiamo con la classifica perché abbiamo detto che Lille è quarto. Il Lizza è già sceso in quinta posizione, ragazzi. Attenzione, attenzione, che fa la fine dell'Orient. E farioli, un fenomeno, grande allenatore, pure... bu... bu... In sesta posizione troviamo Lent's a un punto dal Nizza... In settima posizione, l'Olympic Marsiglia, quattro punti dal Nizza... In ottava posizione, Renca ha perso come un kuruku contro l'Orient, con trentacinque punti... a 5 punti dal vizio idola posizione il re ma 34 e qua ci fermiamo ragazzi queste sono le squadre che hanno qualche chance di conquistare un posticino in europa se la giocano diciamo che fino a rense la possono giocare poi abbiamo le due o tre squadre al massimo che sono due squadre il tolosa e lione che per il momento hanno un buon margine di vantaggio sulla terz'ultima lione 28 tolosa 29 punti e siccome la terz'ultima che è il montpellier è a 23 sono 5 e 6 punti di vantaggio per ora ma solo per ora sono relativamente tranquille però capite benissimo che paio di sconfitte consecutive due o tre e poi ti trovi della cacca veniamo invece alle squadre che si dovranno guadagnare la salvezza partendo dal resto in strasburgo a 26 all'oriente al nant che sono a 25 con situazioni diametralmente opposte perché l'oriente è andata a vincere una partita che non ti aspettavi con le renne ben tentante è andata a perdere una partita che non ti aspettavi contro un mezzo che prima di quella partita sembrava ormai spacciatello e invece adesso nuova linfa sente fruire in se stesso a 24 punti troviamo le abro che ragazzi miei torna a essere a rischio retrocessione dopo un bel campionato che sembrava addirittura poterlo far arrivare a bete inaspettate come un post in conference adesso è tornato quindicesimo ed ha un solo punto di vantaggio sul montpellier sedicesimo e in questo momento è il montpellier che andrebbe a fare lo spareggione con la terz'ultima della liga 2 francese l'igdu mentre invece il mezzo nonostante la bella importante vittoria in casa delle renne è a 20 punti a tre punti dal montpellier mentre il cremont a 17 appare francamente abbastanza condannato tra l'altro dopo il 5 a 1 con l'olipe in marsiglia penso che il morale dei giocatori del clermont sia sotto il livello della fossa delle marianne va bene perdere perso contro una squadra che ti è superato 5 a 1 è pesante soprattutto in casa vedremo vedremo anzi vedremo subito perché adesso andiamo a vedere la prossima giornata cosa ci la regalerà abbiamo subito un tizio a montpellier che potrebbe essere l'ultima occasione per vivere per il vizza perché se vi pareggia anche con il montpellier dopo aver pareggiato addirittura la settimana prima l'ha finito di ovvio non lo trovo più non trovo più che partita fatto l'inizio d'aiuto perché non trovo più che partita fatto l'inizio allora pesa ha perso con l'iole e poi e poi ha pareggiato col clermont in casa ecco appunto era quello che stavo cercando ha pareggiato col clermont in casa adesso affronta al montpellier ragazzi miei montpellier non deve battere solo che se la precedente ha pareggiato con le tene tanto se se pareggia ancora perché quasi a rischi anche di perdere col montpellier sarebbe veramente terrificante come porta quindi è l'occasione per il vizza per rialzare un po la capino poi abbiamo un lorient lione che è una bella sfida che potrebbe riportare lione in una zona pericolo quindi lione deve tassativamente non perdere con l'orient perché sennò torna della cacca poi un interessantissimo lens breast sfida europea pari saint germain rens appare abbastanza scontata occasione anche per il mezzo che gioca in casa con l'ultima in classifica per ulteriormente avvicinarsi al terzo ultimo posto e dare la picconata finale al povero clermont resti strasburgo monaco partita abbastanza impari le avrò tolosa molto interessante e infine un lilla rens con un rens che magari vorrà fare bella figura in casa dell'illa dopo questa debacle casalinga contro l'orienta anche se sarà durissima e si conclude con un olympique marsiglia nantes e questo è invece un'occasione per l'olipique marsiglia per cercare di avvicinarsi alla zona europa una giornatina interessante non ci sono grandissime gare di cartello se si esclude lens breast poi per il resto sfide salvezza sfide tra squadre di centro classifica più o meno o testa a coda nel senso sfide tra squadre di alta classifica contro squadra di bassa classifica vedremo vedremo c'è tempo per parlarne eccetera si riparte venerdì prossimo poi alla terza settimana di marzo per la vostra felicità si ferma al campionato e avremo le vedove del campionato italiano dio come faremo senza una giornata con una giornata senza calcio come faremo mamma mia faremo meno non muore nessuno è l'ultima poi la prossima se ne parlerà la fine del campionato e lì magari mi farà anche piacere perché non essendoci il campionato le squadre delle partite della nazionale vi farà un piace anzi noi inizia il campionato europeo dal 14 di giugno libidi libidi per voi io sarò al ristorante le partite le vedrò indifferita meno male che ossia ora è la possibilità di vederle sesso e se sono sulla rai ciò rai play che mi sta regalando gioia se sono su sky bene registro poi torno a casa dal lavoro bene guardo poi vi farò il resoconto prima di andare a andare a trovare come sempre e poi se riparte col solito giro lavoro e dormo dormo lavoro lavoro da per sei mesi sarà così vera bene bello sei mesi e mezzo anche vedremo quando inizio però ogni giorno è buono solo in attesa ovviamente dalla terza di marzo quindi quando si ferma il campionato potremmo già iniziato penso che per i primi 15 giorni di marzo non ancora dopo di giorno e modo va vera che a soli io vi saluto vi ringrazio e naturalmente ci vediamo la pro shine che a breve che vi faccio il campionato tedesco perché anche lì ne sono successe delle belle e delle brutte ciao